Giovedì 1 agosto, primo giorno di scuola, sembra quasi, qui alla Giallo Blu Figline con il nuovo staff della stagione 2013-2014, Andrea Bernini, un nuovo volto anche per la Giallo Blu. Come ci si sente a ripartire però da allenatore? Ma sicuramente è una sensazione nuova, però sono contento di arrivare questo giorno perché non vedevo l'ora di iniziare. Tantissimo entusiasmo, tanta voglia di far bene, trasmettere questa positività a questi ragazzi per poter riuscire a fare un buon lavoro e presentarsi al meglio all'inizio del campionato. Hai cambiato qualcosa nella veste di allenatore e giocatore? Perché insomma tu ti ritiri nei fatti tanti, però sei arrivato per primo, non so se arrivavi per primo anche quando eri giocatore, sei arrivato per primo, ti devi preoccupare dei palloni, che ci sia tutto a posto, è cambiata la storia? Sì, sicuramente sì, sono tutte nuove esperienze, però farò presto a imparare. Niente, sono arrivato per primo come penso sia giusto che un allenatore arrivi primo, anche da giocatore, però diciamo che non ero mai un ritardatario perché mi piace molto la puntualità e tutto. Devi presentare anche un nuovo volto che ti affiancherà? Questo è un mio grandissimo collaboratore, Vincenzo Di Santo, preparatore dei portieri e quindi ci darà una grossa mano per la preparazione di questi ragazzi, ha a disposizione due giovani di valore e quindi sicuramente con la sua esperienza e la sua voglia riuscirà a farli raggiungere degli ottimi risultati. Intanto benvenuto a Figline, un'esperienza nuova insieme ad Andrea, Andrea ha la sua prima esperienza allenatore, però insomma c'è tanto entusiasmo? Sì, tantissimo, una squadra giovane, secondo me attrezzata anche bene per poter far bene, l'importante è che il mister mantenga questo entusiasmo tutto l'anno perché per loro è importantissimo. Poi noi, tutto lo staff, cercheremo di dare il massimo che a questi ragazzi raggiunge l'obiettivo che poi si vedrà mano a mano durante il campionato. Io sono contentissimo che lui mi ha voluto qui, società importante, una bella piazza, grande stadio. È una scommessa anche per me perché ho due ragazzi giovanissimi, un 94 che avevo l'anno scorso a Rignano, Poponcini e Carlo Alberto Ortolani che ho allenato quando faceva gli professionisti a San Giovanni. Sono contento veramente, non vediamo l'ora, ci siamo visti anche ieri sera perché non si vede l'ora proprio di cominciare e ora siamo qui. Veste che aveva prima Sauro Mugnai che però non lascia ma diventa allenatore in seconda. Sì, secondo me è quello che voleva fare, a me mi ha fermato, noi siamo tutti a San Giovanni, mi ha detto guarda io smetto, gli ho proposto di santo a figli, loro sono stati contentissimi, poi l'ho ritrovato qui e gli ho detto mi ha preso un giro perché lui voleva fare allenatore in seconda, si era stufato di calciare in porta. Dalla tua esperienza questi due portieri possono essere di categoria? Sì, secondo me sì, io ho avuto Poponcini l'anno scorso che ha vinto per la seconda volta consecutiva il campionato di un onore regionale a Rignano, ha fatto qualche apparizione in eccellenza, con la Rignanese è andato bene, soprattutto una partita che resterà penso nella sua memoria perché contro il San Donato gli ha veramente parato tutto e purtroppo gli ha fatto perdere il campionato. Carlo Alberto è un portiere che ha grossissime qualità e poi hanno una gran voglia di lavorare, secondo me si farà benissimo. Andrea parliamo un po' di programma, adesso giovedì si farà tre giorni, due giorni in che modo? Oggi pomeriggio, domani pomeriggio doppio, andremo diciamo fino al 13 d'agosto, ci alleneremo sempre, tranne una mezza giornata libera penso il 7 mattina dopo la prima amichevole e lavoreremo, avremo da fare tantissime cose. Una curiosità, una preparazione che è sulla falsa liga, di quale altra preparazione che tu hai avuto come giocatore? Ma diciamo un mix delle mie idee, preferisco diciamo una preparazione, mixare un po', non fare tutte cose uguali, l'importante è che in questi allenamenti ci sia l'entusiasmo, la voglia, la serietà e anche il divertimento perché fondamentalmente secondo me il calcio deve essere divertimento e se c'è divertimento la voglia di vincere viene da sola e ci si allena bene sicuramente. In bocca al lupo allora. Crepi. Grazie.